ciao a tutti oggi nuovo video su degusta box che mi è arrivata l'altra settimana e vi faccio vedere cosa c'è all'interno allora questa è la box di marzo e c'è un prodotto del mese che vi faccio vedere appena lo prendo qui se volete c'è una box uno sconto si mette a fuoco grazie su ok uno sconto speciale sulla prima box deve andare su il sito e mettere amici allora ecco qua prodotto del mese che la bevanda vegetale alla soia arricchita con calcio e vitamine b2 b12 e d2 so è un litro questo prodotto del mese e costa 2 euro e 05 c'era anche al variante variante di riso di riso poi una scatola di raffaello della ferrero sono vediamo un po 180 grammi sono 17 dentro e costano 4 euro e 29 poi c'è una scatola di tisane bonomelli prebiotica con radice di cicoria semi di psyllium e inulina contribuisce l'equilibrio della flora intestinale sono 18 filtri si può bere sa calda che fredda e costa 2 euro e 89 poi c'è una scatola di maionese della calvè ideale per pasta e insalate con yogurt magro meno 55 per cento di grassi saturi 150 ml e costa 1 euro e 29 poi c'è poi ci sono due scatole ecco danno di golia multivitamin senza zucchero con vitamina c b3 b5 b6 nuova formula integratore alimentare multivitaminico sono 46 grammi ciascuno e costano 1 euro e 50 poi c'è limone succo di limone limmi con vitamina c 200 millilitri e costa 1 euro 80 poi c'è una barretta di kind protein con oddio caramello noccioline caramellate 50 grammi e costa 2 euro e 49 poi c'è una confezione di loaker multi cereali buffer con in carta riciclati riciclabile ricco di fibre sono 100 grammi e costa 2 euro e 29 poi c'è una confezione di cracker ecco la ciao 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 sesamo papa vero lino di quadri senza lievito vaccinata e pietra intero della marca figuli 100 grammi e costa 2 euro e 14 e poi ci sono le ultime due prodotti nella confezione perché sono di vetro allora c'è questa passata di pomodoro 100% Achillea dolce vita 200 ml e costa 2,99 euro e c'era anche l'altra variante mango, pesca e arancia ma sono da bere oh no c'è l'altro da bere ma questo succo di frutto no che schifo no vabbè invece fosse una da cucinare e poi l'ultimo prodotto in vetro una composta crema da spalmare alla fragola di darbo 80% di frutta 250 grammi e costa 3,19 euro allora vediamo se vi ho fatto vedere tutto sì allora quello che costa di meno è 1,50 euro l'egolia quello che costa di più sono i raffaello 4,29 euro per questo video è tutto mettete un pollice all'inizio e iscrivetevi al mio canale ciao